Si torna in politica stavolta per le elezioni regionali, intanto perché questa scelta personale dopo diversi anni invece lontano, diciamo dall'impegno un pochino più in prima linea? Ho aderito all'invito che mi è stato fatto da tanti amici e compagni perché per la prima volta la regione toscana è contendibile. Per la prima volta potrebbe accadere, io mi auguro di no naturalmente, che il buon governo di sinistra, di centrosinistra degli ultimi anni sia sostituito dal governo della peggiore destra che la Repubblica italiana abbia visto. E quindi evidentemente ho ritenuto che non fosse più il tempo delle divisioni, non fosse più il tempo delle corse solitarie ma che invece fosse venuto il tempo dell'unità. Ed ecco perché insieme a sinistra civica ecologista sosteniamo la candidatura a presidente di Eugenio Giani. Ecco appunto il pericolo che la Toscana possa, come dire, passare di mano, diciamola così, quanto è reale? A giudicare dall'ultimo sondaggio del Sole 24 Ore è molto plausibile purtroppo. E' quindi evidente che non è più il tempo di scherzare, bisogna scendere in campo, uniti, e cercare di raggiungere un risultato che fino a ieri sembrava a portata di mano che invece oggi non è più scontato. Quali sono i temi, secondo lei, che ancora oggi rappresentano la sinistra e che devono essere, come dire, portati con più forza? I nostri temi sono nel nostro nome. Sinistra significa naturalmente innanzitutto tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto di quelli precari. Civica significa invece tutela dei diritti civili di tutti i cittadini, soprattutto delle minoranze. E infine ecologista significa attenzione ai temi ambientali e quindi un netto no a nuovi inceneritori e invece un sì alla ripubblicizzazione dell'acqua.